Ok, rieccoci. Allora, abbiamo questa ribellione in Sicilia che dobbiamo cercare di eliminare. Allora, le due opzioni sono due, sostanzialmente. Io posso andare piano e potrei reclutare un po' di auxilia per Latina, oppure posso andare in marcia forzata. Non riuscirei comunque ad attaccarli, ovviamente, però arriverai a Regium. Vabbè, no, direi che conviene andare un attimo così. Reclutiamo un po' di Latina. Eventualmente, però, dovremo limitarci, perché non sono in tutto sicuro che... insomma, i soldi magari mi servono anche per altro, quindi vedremo. Magna Grecia? Ok, vabbè. Cartaginensis. Sì, abbiamo quella ribellione lì. A questo punto possiamo utilizzare questo per andare a possibilmente eliminare quest'esercito, anche se comunque è piuttosto pericoloso in realtà. Qui com'è la guarigione? Standard. Sì, qua dovremo potenziarli. Che è sta cosa? Decrino del paganismo? Ok, vabbè, niente. No, vabbè, non reclutiamo altro. Cerchiamo di andare il più... ...in là possibile. Ok, andando qua siamo anche tranquilli, perché c'è la città che ci protegge, ma comunque dovremo riuscire a scappare eventualmente se ci attaccano, perché nel prossimo turno saranno un po' tanti. Secondo l'altro abbiamo anche un generale decente. Qui dovremmo andare ad attaccare quest'esercito. Che sono otto. Com'è il mio, questo esercito qua? Dove davvero l'ho presa questa che... Ah, probabilmente l'ho presa dall'avversario. Buono! Dimmi che posso ucciderlo. Ok, perfetto. Abbiamo un salvataggio veloce. So già su che cosa sparerò con questa. Anche se siamo sempre al solito discorso. Noi arriviamo da un lato, loro arrivano dall'altro e loro hanno dei catafratti. L'ultima volta che è successo così abbiamo perso. Ah, quindi non lo so. La cosa che possiamo provare a fare è cercare di portarci il più possibile vicino a... a dove entreranno i nostri rinforzi. Anziché cercare di, in qualche modo, fare un sandwich, cerchiamo di riunire le forze e di... Quindi poi, insomma, a quel punto di attaccare tutti insieme. Anche perché... Cioè, il problema è che comunque lui ha un sacco di artiglierie. Siamo allo schieramento. Abbiamo rinforzi che arrivano da di qua, per cui... Non lo so, la cosa che posso fare è mettermi il più possibile qui. Il problema è che con le artiglierie mica riesco a... Sono molto tentato da cercare di prendere sta collina. Perché potrebbe essere utilissima in questa situazione. Non me la sento di lasciare perdere questa possibilità. Tra l'altro, forse, la volta che ho perso... Mi l'ho anche lasciato prendere in... Mentre non ero in formazione, quindi quello potrebbe aver contribuito. Il rischio di perdere i rinforzi. Insomma... Aspettavo ancora un po' era meglio, forse. Aspettavo ancora un po'... Questi qua... Via! Fin dove arriva il mio... Madonna, si è limitata, però. Speravo qualcosa di più. Aspetta un attimo, va, vediamo qua... Qua ci siamo, sì. Facciamo CTRL... Facciamo G... E proviamo ad andare in questo. Aspettavo... Scalp, equitazione! Veloce, ora! Advanti a velocità! Stanno tirando addosso. Non stanno usando il tiro pesante, quello è buono. Cioè, il tiro... Come diavolo si dice, il tiro infuocato. Quindi quasi quasi aspetto che finisca l'immunizione. Non potete correre. Ok. well... So, sono belle striere, eh? Si. Direi di avanzare ancora con questo Arrivare al limite della foresta Magari anche di qui Che posso avanzare un pelino di più E poi devo attaccare Perché non è che posso aspettare qua delle ore Perché qui comunque sto perdendo uomini Ho quasi finito con le munizioni almeno I miei non facevano tante uccisioni Le mie cataporte fanno schifo Meno aspetto che questi qua arrivano in posizione Sì I nostri uomini hanno mollato E ora cercano di mettersi in salto Attenzione Hanno individuato le nostre unità nascoste Noi adesso c'è Perdo tanti di quegli uomini I nostri uomini si stanno radunando Lo hanno ancora finito Quello che posso provare a fare è cercare di eliminare queste unità qua Con questa cavalleria Però devo aspettare che quel catafratto lì Entri in corpo corpo E stanno scappando Non va a finire bene Stanno tirando Cerchiamo di eliminare questi catafrati Perché ovviamente sono quelle più pericolose Il nostro generale è sotto attacco Tenetelo in vita I nostri uomini sono disperati Un po' di ciudine ne erano fatte Non riesco mica a eliminare gli minagli Neanche con delle lance Forse si però invece Sto vincendo questi qua Sembriamo dentro questi qua Non lo so però I catafrati li hanno mandati in fuga Se riesco a portare fuori questo qua E fermarli No Dobbiamo salvarlo Anche lì non so francamente se ha fatto la scelta giusta Probabilmente no Andiamolo se non altro su questi Non bisogna anche su cosa sparare Se non altro potrai riuscire a bloccare Quelle Queste qua Queste Vediamo se per caso Adesso non resistiamo un po' di più Ok Allora voi due Venite qua Tu Se non è che soltanto ho riuscito a tenerlo un po' di meno fermo Mi va bene comunque Abbiamo vinta Ma Diciamo che è stata tosta Dai E avevo il ca Abbiamo sostanzialmente persa la guarnigione Possiamo scappare questi qua dietro Gli lancieri Ok Non posso Cioè Effettivamente Cioè sul piano A lato pratico è stata forse una delle Battaglie più difficili Da un certo punto di vista Non era una di quelle dove ero più Più svantaggiato diciamo Ovviamente perché anzi Rispetto al livello delle Quanto meno Al bilancio delle forze Teoricamente noi eravamo Avanti No Ma Il fatto comunque di avere delle cavallerie del genere Ha fatto sì che per vincerle abbiamo dovuto abbastanza Non dico tanto dannare ma Giocare bene Ecco E Insomma credo Insomma Sono abbastanza soddisfatto di com'è andata Ecco Non è morto Sì effettivamente Adesso Tanto per cambiare no La stupidaggine l'ho fatta allo stesso Perché non l'ho eliminato di tutto Sì effettivamente Penso il prossimo turno mi toccherà di nuovo Ma io non lo so Magari posso anche No Però credo che non stia reclutando Comunque Sì non è Insomma Poteva andare meglio Cioè potevo ricordarmi più che altro Ehm Andiamo in città così rigeneriamo qualcosina di più Poi darò caricare là in alto Oh adesso vediamo Perché se Se non rigenerano più Vado a attaccare questi Prima Qui aspettiamo In Nordafrica Come siamo messi a livello di ribellioni Credo di averle sedate tutte Però c'è ancora questo mega esercito qui che Potrebbe attaccare l'Eptismania Sì Però non potrebbe attaccarli in un tono solo Posso pensare di affrontarlo in campo aperto Quattro cavallerie Lui quant'è ne ha? Due Come posso servire le persone di Rose? Come posso servire le persone di Rose? Per la sua commande? Ok Facciamo una cosa per una volta A parte che qua scoprirò un'altra ribellione Uniamo questi due eserciti Ci prendiamo Tutto A limite gli lasciamo questo No Per il momento ci prendiamo tutto 9 più 11 Arriviamo quasi Arriviamo a 19 Probabilmente Perché immagino che i generali non li calcolino Probabilmente non ne abbiamo bisogno Quindi possiamo anche la scegliere magari Un paio di questi Se deve andare a sedare qualche ribellione E lo mettiamo Alle Prismania Magari non in mare Eh vai qua sabrata Potrebbe reclutare un po' di cose Ma credo che non sia necessario Almeno in questo momento Prossimo turno Vediamo di andare ad eliminare questo qua Se A meno che non vada ad attaccare Makomadis Ma O meglio Probabilmente ad attaccare Makomadis Ma francamente mi interessa poco Si verrà Se mi verrà Cioè no Probabilmente no Perché mi ha attaccato Il turno scorso Mi pare Qui non possiamo far niente Qui non possiamo far niente Qui non possiamo farci niente Qui potrebbero attaccarci Ma comunque siamo ridotti abbastanza bene Per cui dovremmo riuscire a difenderci Decentemente anche perché Virunum Si ha Una guarnigione decente Potenziamo questo generale In questo momento Comandante della cavalleria Non mi serve Quindi Prendo anche un comandante della flotta In modo da poter Potenziare subito l'avanguardia Perché non ho Non ho cavalleria purtroppo Andiamo a nocchiare anche un'altra cosa Però adesso che ci penso Qui Eh non so Non so Non so quanta fanteria ricuterà ancora Perché adesso volevamo andare verso le cavallerie Però Non credo che sia comunque qualcosa di negativo Abbiamo sempre quella flotta lì Scusa dove i diavolo arrivano Mi pare di portare su questo esercito Riesci ad arrivare duro cortorum No Quindi vai ad Augusta tre verorum E basta E potenzio questo Perché effettivamente è molto meno Cosa è successo? Vabbè Boh Tratto acquisito cieco Vabbè È un governatore Però è pessimo adesso Credo Diamo un'occhiata No aspetta Dove Chi diavolo Allora te Qui Governatore È questo qua? Sì Personale Morale Meno 14 Danni corpo a corpo Beh non credo che abbia No Conticete militare Ok Non è il massimo Però vabbè Per qualche turno Dobbiamo ancora tenercelo Perché Non possiamo fare molto altro Purtroppo C'è un'altra cosa qua che possiamo vedere Penso proprio di no Ehm Facerebbe vedere un attimo Meglio che cavolo hanno qui Ma comunque Rotomagus è protetta In qualche modo E adesso questo esercito qua Dovrebbe comunque dare un minimo di protezione Vabbè Direi di finire il turno Ah beh qui stanno salendo Cioè Siamo sempre lì Sono stati sconfitti Per cui Ci vuole un po' per Per ritornare a posto Gli astrogoti sono sbarcati Allora Duro cortorum O duro cortorum Non ne ho la più pari D'idea Potrebbe essere Potrebbe valere nella pena Ehm Se non altro Per indebolirli Un pelino Cioè Anche perché Sì no Qua devo farlo Perché ho intenzione Di attaccarli Nel prossimo turno O comunque Insomma Devo affrontarli E Devo indebolirli In qualche modo È praticamente impossibile Perché con tutti questi tiratori Non ce la farò mai Però se non altro Ho anche poche fanterie Per cui quello potrebbe darmi una mano Penso che ci sarà il link Per skipare questa battaglia Perché So già Come andrà a finire Loro di spade Fortunatamente non è messo bene Perché comunque E con i guerrieri Di sviluppo Che non sono male Ma più che altro Danno bonus A livello di morale Sono più da supporto Piuttosto che da danno Questa brigata nordica O banda nordica Insomma Ovviamente Fa abbastanza schifo Tutti questi tiratori Però saranno Somitamente un problema Cioè Lui praticamente Può venire frontalmente Sul mio blocco E tirarmelo giù Fuori di giavellotti Altro aspetto positivo Che non ha Non ha tantissime cavallerie A parte quello Non ha unità Adatte Diciamo A tirare giù le barricate Cioè Non ha asce O cose del genere Quindi I miei barricati Dovrebbero tenere abbastanza Non è che per caso C'è qualche Viccolo cerco In cui possiamo Infilarci Praticamente Possiamo infilarci Qua dentro Non so come andrà a finire Però Vabbè Tanto vale provare Cioè nel senso Che qui È uno dei tatti Che mi avevate Consigliato Un po' di tempo fa Non ho mai provato A farla seriamente Potrebbe finire Molto male Perché Cioè Se fanno il giro Da qua A tirarmi nella schiena Me li pialano Automaticamente Però Proviamo a fare Una roba del genere Non so come andrà Cioè nel senso Più o meno so come andrà a finire Però Non so se la cosa Insomma Sarà una buona idea o meno Probabilmente no Però insomma Visto così dato Che comunque È una battaglia Abbastanza persa in partenza Tanto vale Utilizzarla Per fare dei test Non abbiamo nessuna possibilità Sono molti più di noi Che cavolo Ah madonna Mai non ho neanche vista Sta roba Non ho neanche qua Vabbè I nostri uomini Sono disperati E se la stanno dando A gambe Se fosse potevo controllare Un po' meglio L'indietro La torre è ormai Un ucchio di cenere Che stanno tirando Il nostro insediamento È in fiamme Il nemico sta puntando Il nostro generale Proteggio Proteggilo Ecco Questi qua Quando arrivano su Cominciano a tirarmi Le spalle È finita Più che Insomma Posso anche velocizzare Adesso non posso fare molto Cioè È giusto aspettare Che vadano giù Le mie spade Sì infatti Stanno anche provando A fare Le avevo detto Che era una pessima idea Però stanno Oltre uomini Sono distrutti E fuggono Per salvarsi La pelle Posso A indebolire Quanto meno Quei razziatori Beh Un po' di roba L'abbiamo uccisa Non è andata male Devo dire La barricata Il nemico Sta attaccando La barricata Ci sapevamo Che eravamo persa No? Ovviamente Però Gli abbiamo uccisi Un po' Abbiamo eliminato Un po' di cavallerie E questo è buono Non siamo riusciti A eliminare Particolarmente I suoi tiratori Quello non è buono Però Comunque Anche le spade Mi hanno fatte fuori parecchie Cioè Credo che Sfruttando proprio il fatto Che loro hanno perso Tante cavallerie Dovrei riuscire Ad eliminarle Nel prossimo turno Perché basta Che mi prendo Dei Dei cavalieri Germani Mercenari Insomma E dovrei Combinare Qualcosa di buono Mi pare che Quell'esercito Che ci ho portato vicino Abbia Una Cavalleria Di suo Quindi Se ne giungo Un altro paio Insomma Lui Praticamente Non ha più Cavallerie Quindi Adesso Non so neanche Se quelle riesce a salvarle O se le ha perse Del tutto No Le ha salvate Se non Perdevo stupidamente Questa qua Probabilmente Riuscirevo a fare Qualcosa di buono E avrò anche I rinforzi Da duro Cortoro Nel prossimo turno Gli unimi Attaccano Aquileia No L'assediano Non l'attaccano E loro Dovrò Attaccarla Io Portando Mineto Tutti Gli eserciti Che ho Lì a nord Possibilmente Tutti Più probabilmente Soltanto Quello di Virunum Perché l'altro Mi sa che Non riesco a portarmelo Fil lì Però E devo eliminare Velocemente Quell'esercito Cioè Non tanto Quell'esercito Ma La stack Grossa Sai che Va bene Anzi Se mi pagate Un po' È meglio Però Ok Ok Vabbè Niente Posta Una volta Asturizza Siamo già 32 minuti Quindi direi Di non Combatterla In questa parte Come andrà a finire Ho Un po' Di dubbi Potremmo riuscire Mi pare che comunque Nella parte precedente Abbiamo fatto una battaglia Del genere E l'avevamo vinta Quindi direi che Potrei vincerla di nuovo Si spera Comunque Per questa parte è tutto Se il video vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Iscrivetevi Come ci ho detto La parte scorsa In realtà Ho aperto un account Di twitter Per cui trovate Le descrizioni Trovate le informazioni In descrizione Se siete interessati Viene utilizzato Principalmente Per informazioni Per il momento Non l'ho ancora Praticamente usato Però probabilmente Quando dovevo fare Avvisi e cose del genere Lo farò lì E niente Al prossimo video Ciao Ciao